La massa molecolare relativa, mm, è la somma delle masse atomiche relative degli atomi di una molecola. Ad esempio, il gas idrogeno ha massa molecolare pari a due volte la massa atomica relativa dell'idrogeno, ovvero 2,016 unità di massa atomica. L'acqua ha massa molecolare pari alla somma di due volte la massa atomica relativa dell'idrogeno e della massa atomica relativa dell'ossigeno. Il risultato è 18,016 unità di massa atomica.